Ammontano ad oltre 9 milioni di euro le risorse richieste da 31 comuni dell'area tirrenica e dei Nebrodi al Ministero dell'Interno per finanziare progettazioni esecutive e definitive. Queste ultime si riferiscono a 76 interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Ora che il Ministero ha determinato lo scorrimento della graduatoria grazie ad un finanziamento di ulteriori 300 milioni di euro dei progetti ammissibili per il 2020 e il 2021 presentati dai comuni sono aumentate le possibilità che tutte o buona parte delle richieste possano essere accolte. Già alcuni hanno beneficiato dei fondi grazie ad un primo budget di 85 milioni di euro. Per il resto ora impinguato il budget i comuni beneficiari dovranno confermare l'interesse al contributo. Per i progetti la priorità aspetta sempre a quelli di categoria A cioè per il dissesso idrogeologico poi ci sono quelli di categoria B per strade, ponti, viadotti e infine la categoria C per edifici pubblici. Tra i comuni che hanno fatto richiesta di maggiori fondi c'è Tortorici con 937 mila euro mentre Reitano con 155 mila è stato già inserito nella prima tranche. Ecco di seguito i comuni e le loro richieste in totale San Salvatore di Fitale a 226 mila euro, Ucria a 230 mila euro, Montagna Reale 259 mila euro, San Marco d'Alunzio 151 mila euro, Frazzanò 345 mila euro, Racuia 223 mila euro, Pettineo 169 mila euro, poi Cesarò 233 mila euro, Tusa 50 mila euro, Floresta 222 mila euro, Sant'Angelo di Brolo 200 mila euro, Alcara Lifusi 466 mila euro, Santo Stefano di Camastra 403 mila euro, Patti 469 mila euro, poi troviamo Gioiosa Marea con 455 mila euro, Capizzi 196 mila euro, Capo d'Orlando 540 mila euro, Castel di Lucio 163 mila euro, Ficarra 581 mila euro, Longi 350 mila euro, Sant'Agata Militello 323 mila euro, Sinagra 270 mila euro, Torre Nova 279 mila euro, Acque Dolci 193 mila euro, Castellumberto 209 mila euro. Infine troviamo Piraino 300 mila euro, San Piero Patti 160 mila euro, Librizi 114 mila euro e Mirto 180 mila euro. Per sapere se questi fondi verranno effettivamente concessi ai comuni si dovrà attendere il 30 novembre quando il Ministero dell'Interno pubblicherà la graduatoria. Grazie a tutti.